Buongiorno e ben ritrovati ancora qui sull'EcoFM e buongiorno al nostro gentilissimo, cortesissimo ospite che è il responsabile a macro area nord-ovest di poste italiane, dottor Giovanni Accusani. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Buongiorno. Allora, grosse novità, anche favorevoli direi per i nostri pensionati proprio domani, 26 marzo. Ce le racconta lei? Sì, domani siamo quasi in prossimità appunto di questa scadenza perché per contrastare appunto la diffusione di questo virus, di far fronte a questa emergenza sanitaria, IMSS, poste italiane e le autorità hanno deciso di anticipare il pagamento delle pensioni del mese di aprile a partire dal giorno 26 di marzo e per i successivi cinque giorni. da poter limitare il più possibile l'affluenza all'interno degli uffici postali e anche la difficoltà a creare degli assembramenti o comunque delle piccole comunità, come era d'abitudine per il pagamento delle pensioni. Già adesso fuori dai vostri uffici avete un contingentamento delle persone che possono entrare, ci sono la security che fa entrare scaglionate le persone, però non c'è solo la presenza fisica allo sportello per ritirare la pensione, voi incentivate in questo momento tanti altri metodi di accredito diretto della pensione, giusto? Sì e colgo l'occasione anche del vostro collegamento per ricordarlo come stiamo facendo su tutti gli organi di stampa e come stiamo mettendo anche gli avvisi davanti agli uffici postali. Chi è titolare di un libretto postale, di un conto corrente o di una carta post e pay evolution dove c'è l'accredito della pensione, è possibile ritirarsi in parte o tutto l'importo della pensione tranquillamente agli sportelli automatici senza entrare all'interno degli uffici postali. Qualora il pensionato comunque avesse necessità e volesse venire, voglia venire all'interno dell'ufficio postale, noi lo pagheremo, come dicevo prima lo pagheremo con una calendarizzazione, cioè abbiamo suddiviso il giorno di pagamento pensioni secondo l'ordine alfabetico del proprio cognome, in modo tale da creare un ingresso e un afflusso negli uffici postali che sia il più possibile regolato, ma questo ricordo è una situazione di estrema necessità, quindi se è possibile, continuo a ripeterlo, per chi è possibile ritira allo sportello automatico, se no all'interno dell'ufficio postale solo per l'operazione di ritiro del contante per quanto di necessità. Questa è una misura di precauzione non solo nei confronti dei dipendenti di poste italiane, ma anche nei confronti degli stessi clienti e degli utenti di poste italiane? Nei confronti di tutti, l'accesso all'interno dell'ufficio postale sarà regolato con una persona, quindi un cliente per volta per sportello attivo e al di fuori sosteranno i clienti in attesa rispettando la distanza di un metro uno dall'altro, questo proprio per limitare il più possibile i contatti. Inoltre all'interno dei nostri uffici postali i nostri operatori sono dotati di mascherine protettive, sono dotati di gel igienizzante per poter avere la sanificazione e sugli sportelli negli uffici postali privi delle blindature, quindi di quelle barriere che ci sono in alcuni uffici, stiamo installando al termine della giornata di oggi degli schermi in plexiglass in modo tale da inibire i possibili potenziali contatti dal punto di vista sanitario tra cliente e sportellista. Ecco, io parlando con la vostra detta stampa Milena Maggioni mi sono informato e mi ha detto che ci sono anche novità sulla consegna delle raccomandate, ovvero in questo momento eccezionalmente se il postino vi suona per ritirare, per firmare la classica raccomandata voi potete anche non scendere a firmare ma il postino chiede il vostro assenso alla firma sua e al deposito nella casella. Ho detto le cose correttamente e mi corregga. Ha detto in maniera giusta, allora con il nuovo decreto c'è la possibilità appunto di non avere più la firma fisicamente per il ritiro della raccomandata o dell'atto giudiziario ma previa contatto al citofono o comunque al campanello il portalettere come ha detto lei riceve l'assenso sul pad e quindi sul suo dispositivo elettronico mette lui la firma e lascia l'oggetto all'interno della buca delle lettere. Tanto dovremmo essere in teoria quasi tutti a casa, qualcuno troverà. Magari chiedo i postini suonate due volte come nel classico film perché magari uno lo sente però è molto più pericoloso e poi insomma dispendioso recarsi ancora in posta a ritirare la raccomandata o il pacco eccetera. Questa modalità è assolutamente molto più funzionale, sarà anche l'emergenza però è molto molto utile per cui lasciateci pure la raccomandata nella buca delle lettere o il pacco e poi scendiamo a ritirarle in un secondo momento. Anche questa mi sembra una cosa molto molto intelligente. Ci sono altre novità dottor Accusani di servizio da poter dire ai nostri ascoltatori? Sì, abbiamo anche rafforzato le informazioni sul sito di Poste Italiane, sul sito www.poste.it dove troveranno i nostri clienti o tutte le persone che hanno necessità tutte le informazioni relative agli uffici aperti, agli orari. Inoltre abbiamo istituito anche un numero verde che è 800 00 33 22 dove possono anche qua avere informazioni sull'ufficio postale più vicino al proprio luogo di residenza e gli orari di apertura e chiusura dell'ufficio. 800 00 33 22 il numero verde per sapere qual è l'ufficio postale a voi più vicino e dunque più comodo soprattutto vi dovete muovere il meno possibile per cui questa è un'informazione fondamentale. Dottore, grazie, io spero che voi possiate lavorare sempre al meglio in sicurezza per tutti noi e dunque Poste Italiane anche in questo caso c'è vicino nell'adempimento dei nostri doveri quotidiani per cui vi ringraziamo. Grazie al dottor Giovanni Accusani, seguite poste.it per tutte le altre domande, le altre curiosità e poi noi useremo ancora questo canale preferenziale di comunicazione magari settimana prossima per vedere se ci saranno nuove ulteriori disposizioni o comunque di servizio per tutti voi clienti. Grazie dottore, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei e un saluto a tutti. Grazie ancora. Grazie.